Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine, sta per cominciare infatti a Napoli la settimana della vela. In attesa delle regate dell'America Scap in programma dal 16 al 21 aprile, sabato 13 e domenica 14 il weekend sarà dedicato al trofeo Grande Vela. Si comincia sabato con la vela longa, una vera e propria festa per la vela con oltre 200 imbarcazioni in gara, la partenza è alle 12 dal Molosiglio ed il giro di Boa a Nisida. Domenica invece toccherà i catamarani AC45 che sfileranno nello splendido scenario del golfo lungo i 23 km di costa da Napoli e Pozzuoli. Abbiamo deciso di organizzare quest'anno, oltre alle regate di America Scap for Series, quelle dal 16 al 21 aprile, anche due eventi, il 13 e il 14 di aprile. Il 13 è la storica Vela Longa che però quest'anno assume un valore più importante perché per la prima volta lo organizzano gli otto circoli velici napoletani insieme e il giorno dopo invece i catamarani AC45 e Coppa America gareggeranno sul lungo percorso da Averia Caracciolo fino al molo coligoleano di Pozzuoli. Ritorno, è la prima volta in assoluto che questi catamarani nel mondo si sfidano su un percorso così lungo e non su quel percorso normale di circa 20 minuti che hanno fatto in Europa e negli Stati Uniti.